Vittoria schiacciante per XRP, ovvero Ripple, nella causa contro la SEC. Infatti, il giudice ha ufficialmente terminato la causa, ordinando a Ripple di pagare 125 milioni di dollari alla SEC, ma soprattutto ha definito che Ripple non è una securities. Hi guys, qui è Royal, il vostro crypto, l'analista di fiducia. E in questo video, guys, voglio aggiornarvi con quello che sta succedendo sul mercato delle criptovalute, soprattutto perché, guys, voglio mostrarvi dei grafici molto importanti che potrebbero impattare, potrebbero farci capire come potrebbe comportarsi il prezzo di Bitcoin e, di conseguenza, del resto del mercato cripto nelle prossime settimane. Però prima, guys, iscrivetevi al canale, lasciate un like, ma soprattutto attivate quella manedetta campanellina perché questo fa la differenza da perdere i suoi suoi mercati e invece essere profittevoli. Ma prima di andare ed entrare nel vivo di questo video, guys, abbiamo un contesto a questa Ramsey. Infatti, parliamo prima con la visuale sulla Crypto Hitmap, diciamo come Bitcoin rimane stabile a 57.250 dollari con una dominanza leggermente in salita al 56,07%. Abbiamo Ethereum allo stesso modo, però comunque sì, abbiamo una performance negativa. Infatti, perdi un 2,74% quotando un prezzo a 2.430 dollari. Abbiamo ovviamente Solana, che guadagna un 1,64%, BNB rimane stabile e ovviamente, come andremo a vedere nel corso di questo video, abbiamo XRP che guadagna un 18,35%, confermandosi come il maggior gainers nelle ultime 24 ore, dato che quota attualmente a 0,6% avendo vinto la causa con la SEC. Ma andremo a vedere nel corso di questo video, non vi preoccupate. Voglio portarvi in esame l'andamento di Bitcoin, perché glielo avevo detto Guys, voglio vedere assolutamente con la candela andare a rompere al di sopra in uno scenario super positivo di questa soglia qui, di questo livello, 58.300 dollari, che coincide con la parete superiore dei massimi che abbiamo visto tra l'Odisei e il 7 luglio. Ok, infatti questo livello lo abbiamo testato più e più buoni a livello di chiusura, abbiamo testato anche il 9 nullo, però per adesso non abbiamo rotto al di sopra, anzi siamo stati regettati, ok? Però adesso sul time free più piccoli pare che abbiamo aperto un gemellero abbastanza importante, abbastanza positivo. Infatti abbiamo un Bitcoin che apre a 55.140 dollari con una crescita fino a 57.300 dollari. Ovviamente voglio andare a vedere insieme a voi la chiusura. Ripeto, la situazione è che dobbiamo andare a vedere almeno al di sopra tra oggi e domani dei 58.600 dollari se vogliamo andare a migare una continuazione verso di basso, perché effettivamente potrebbe essere una rottura, ritesto, magari di zone anche più importanti, come potrebbe essere appunto la media mobile a 200 periodi, come potete vedere qui. E poi dall'altro momento andiamo a prendere una media mobile a 226 periodi, che è più indicata per ciò che riguarda il mercato delle crypto, essendo aperto 24 ore su 24. Vediamo come si è abbassato il livello. Infatti abbiamo, in concomitanza proprio del livello che vi ho mostrato, la mega mobile esponenziale a 227 periodi sul giornaliero. Infatti voglio andare a vedere, rompere dal basso verso di anzo, magari con un pattern del genere, rottura, ritesto della zona e di conseguenza anche della media mobile che molto probabilmente andrà abbassando durante il corso del tempo leggermente, per poi ripartire verso di alto. Questo potrebbe essere lo scenario super posghibo che potremmo assistere qualora vedessimo un impulso verso di anzo e rottura appunto del livello della trendline, ok? Se non riusciamo tuttavia a rompere questo livello, potremmo vedere come il prezzo di Bitcoin potrebbe andare laterale verso il basso e andare a registrare normalmente questa trendline, ok? Ed è una cosa che non vogliamo vedere, almeno nello scenario più positivo. Andando a prendere in considerazione il DQI, ovvero l'indice di forza del dollaro americano, abbiamo visto come tendenzialmente e testiamo andando verso di basso, ok? Da verso di basso questo, avendo come cosa positiva per gli asset dell'ISCORN, compreso anche lo Sam & Poor's e lo stesso l'ICONN, ok? Vediamo come attualmente stiamo ritestando esattamente, abbiamo ritestato negli scorsi giorni questa trendline, ok? Trendline, che viene trovata se andiamo a tirare i minimi dal 13 luglio del 2023, quindi con un grafico più che annuale, abbiamo testato a via dicembre, 28 dicembre del 2023 e attualmente abbiamo testato anche durante lo scorso crollo del 5 luglio, ok? Probabilmente più o meno questa trendline la testiamo una volta ogni 6 mesi, ogni 6 barba, 4 mesi. E questo è quello che è successo. Vorrei andare a vedere anche qui una puntivazione verso il ribasso, perché se anche qui da questo livello dobbiamo e avremo una puntivazione verso il rialzo, questo aggravi scapita di tutti gli asset a l'ISCORN. Guys, rimane che fino alla fine di questo video, perché vi do la possibilità di ottenere fino al 15% di cashback sui depositi attraverso un bonus sui futures, ok? Però, guys, entriamo nel divo delle news, infatti abbiamo una chance che per Kamala Harris guadagna a terreno rispetto a Donald Trump. Infatti, diciamo, come Donald Trump e i Kamal Ellis hanno un 49% ognuno di percentuali vincenti sui pali market. Quindi, guys, molta attenzione, perché soprattutto, almeno per adesso, la situazione di Kamala Harris per circolare del mercato delle più tolute è abbastanza ignota. Infatti non mi ha espresso direttamente l'intento di andare a regolamentare in modo positivo o negativo il mondo delle cripto-lute negli Stati Uniti, ok? Voglio prendere in esame con voi anche lo scorso crawl, soprattutto dato che abbiamo dei dati molto importanti. Ci riporta come la maggior parte delle whales che stanno vendendo sono new whales, cioè vuol dire sono whales, infatti, che hanno definitivamente da poco tempo bitcoin, ok? Infatti vediamo come questi qui in goletto, questi Instagram in goletto, vediamo come la maggior parte che hanno venguto sono questi tipi di whales. Invece le old whales, che secondo me sono quelle più interessabili da andare a prendere in considerazione, vedete come hanno venduto praticamente quasi al top. Invece le new whales hanno venduto in padding. Quindi, guys, attenzione, io se dovesse seguire uno dei due, non le seguo, però se dovesse seguire uno delle due portafogli, seguire appunto quello delle old whales, che sicuramente adesso non sono un nome sul mercato e sanno quello che stanno andando a fare. Come vi dicevo, guys, come vi anticipavo già nell'imptor, finalmente è finita la causa negli strumenti tra la SEC e XRP, ovvero Ripple. Infatti, legamo come Ripple, Bebba, o obbligatoriamente pagare 125 milioni alla SEC, che potrebbe essere una cosa negativa, però effettivamente la SEC è la partita per più di 2 miliardi, quindi diciamo che non è andato affatto male. E soprattutto vediamo come tendenzialmente Ripple sia stato decritto dal giudice federale come non una security e di conseguenza non sotto la giurisdizione della SEC. Molto, molto importante, soprattutto una grande ritoria sketchante per Ripple dopo diversi anni. Preghiamo a convergereci col prezzo di Ripple, infatti vediamo come, a partire proprio dall'uscita della news, possiamo passare dagli 0,43 fino a toccare uno 0,64, che in realtà sto prendendo il minimo del crollo di UED. Poi comunque sia vegano come attualmente, XRP avrebbe reggito con più un 47% in pochi giorni, praticamente molto, molto importante. Abbiamo anche un fine approvision da parte del giudice che si occupa della situazione FPX e Alameda e soprattutto ha ordinato i payback di 12,7 miliardi di dollari agli FPX creditors, ok? Questo che significa? Significa che tendenzialmente potremmo vedere assolutamente nuovi caratteri di criptomani sul mondo delle criptose. Attornette questi 12,7 miliardi sono in mano dei creditori che ancora devono distribuire le legittime proprietà, ma soprattutto ricordo che le vittime di FTX saranno ricompensate e le vittime di FTX sono praticamente degli investitori di criptovalute, ok? Che purtroppo hanno subito il crollo e la truffa, possiamo definire così appunto, di FTX. E di conseguenza, questo come potrebbe impattare? Il fatto che chi riceva a meno in parte questi fondi sia incentivato all'investire sul mercato delle vittorute o almeno questa è quella che si spera. Guys, come Vantage Power c'è la possibilità di ottenere il 15% di cashback con un tetto massimo di 7.500 dollari bonus di futures per i primi 200 tenti vi lascio tutti i link qui sotto la box. Mi raccomando, guys, iscrivetevi al canale, lasciate un like, ma soprattutto attivate quella maledetta campanellina. Da Ryan è tutto, ci vediamo domani. Bye!